Buongiorno, vi do il benvenuto alla nostra questione giuridica del mese o un'iniziativa dell'origio. Oggi trattiamo il regime fiscale, nello specifico trattiamo l'autodenuncia oppure chiamato anche voluntary disclosure. Nel dicembre dell'anno scorso Italia ha deliberato una legge che consente la dichiarazione di patrimonio o reddito all'estero che finora non erano ancora dichiarati. Soprattutto nella nostra eurigio dove è normale studiare oppure lavorare all'estero, un conto bancario oppure un appartamento all'estero non è una rarietà. Ma come funziona esattamente? Con noi abbiamo oggi il Dr. Ghat Gassa che è dottore commercialista e revisore legale. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dr. Gassa, quando è che la voluntary disclosure è rilevante per me e quale regole devo rispettare affinché questa autodenuncia sia valida? La voluntary disclosure generalmente è rilevante per tutti coloro che hanno avuto un patrimonio all'estero negli ultimi anni e non hanno dichiarato tale patrimonio così come non hanno dichiarato i redditi derivanti dal patrimonio nella propria dichiarazione dei redditi. Ai fini della validità della voluntary disclosure rilevano principalmente due fattori. Innanzitutto è richiesto che sia spontanea, cioè che non siano cominciati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. E il secondo requisito richiesto è la completezza della stessa, ovvero che tutto il patrimonio e non solo parte di esso vengano dichiarati al fisco. Un'eventuale incompletezza è fonte di nullità della stessa. E quale arco di tempo o quali somme sono rilevanti per l'autodenuncia? In linea generale sono rilevanti gli anni che vanno dal 2009 al 2013. Per il 2014 siamo ancora in tempo per presentare la dichiarazione di redditi ordinaria nei termini ordinari appunto entro il 30 settembre 2015. A ricordare di certe circostanze, tra cui rileva tra l'altro una fattispecie penalmente rilevante o anche il coinvolgimento di paradisi fiscali, questo termine può anche raddoppiarsi e andare indietro fino al 2004. Per quanto concerne invece le somme e gli importi, sotto un importo di 10.000 Euro non vi era l'obbligo di dichiarare tali somme, per cui sotto di questa somma nulla è da dichiarare. Per quanto concerne invece i mobili, questi sono in linea generale sempre da dichiarare, così come i redditi derivanti. E qual è la procedura da seguire? La procedura da seguire è la seguente, innanzitutto bisogna raccogliere la documentazione all'estero che è già di per sé una cosa abbastanza che va per le lunghe, poi bisogna fare un calcolo esatto dei redditi classificati secondo il diritto italiano, c'è il problema che i redditi all'estero non sono uguali come quelli qui rilevanti ai fini italiani, per cui bisogna fare tutto il ricalcolo, fare un'aperizia nella quale si descrive esattamente il caso del contribuente e successivamente inviare un modello telematico all'agenzia delle entrate. Dal momento in cui noi come commercialisti inviamo questo modello, il contribuente non può più essere attaccato dal fisco per quanto concerne appunto i redditi all'estero. Se io fossi interessata, quando è che devo iniziare a preparare l'autodennuncia? Cioè per esempio se oggi mi decidessi, sono ancora in tempo di farlo? La procedura deve essere conclusa entro il termine del 30 settembre 2015. Ciò che può sembrare molto lontano di fatti non lo è perché come abbiamo visto nella pratica spesso il reperimento della documentazione è un processo che va molto per le lunghe, per cui è raccomandabile attivarsi subito e informarsi su questo tema per poi prendere le decisioni giuste. E perché è consigliabile fare l'autodennuncia? Cosa sono le conseguenze? Cosa sono i vantaggi? Di fatto non esiste un'alternativa alla volontaria disclosure per una ragione molto semplice. Se consideriamo che i paesi come Svizzera, Liechtenstein e Monaco, che per 50 anni erano i paradisi fiscali e non hanno mai dato delle informazioni con riferimento ai contribuenti italiani allo Stato italiano, questa cosa nell'arco dell'ultimo anno ha cambiato radicalmente, in quanto questi paesi hanno sottoscritto degli accordi con l'Unione Europea ma anche con l'Italia per scambiarsi automaticamente i dati entro un futuro molto prossimo. Se poi consideriamo che anche l'Austria ha deciso di abrogare il segreto bancario per i non residenti, allora il mondo è veramente cambiato e le circostanze sono cambiate. Di fatto l'evasione fiscale non è più possibile, per cui è opportuno correre la palla al balzo di aderire a questa procedura che ha moltissimi vantaggi, tra l'altro permette di beneficiare di sanzioni amministrative ridotte che sono veramente una frazione rispetto a quelle sanzioni che normalmente vengono applicate. Inoltre c'è un altro grande vantaggio della volontaria disclosure, l'adesione alla volontaria disclosure esclude la punibilità per reati tributari, ovvero di fatto non si è più penalmente perseguibile per tali reati. E come sono i costi? È difficile stimare i costi perché in linea generale nessun caso è uguale all'altro. generalmente bisogna calcolare come costo per imposte, sanzioni e interessi un ammontare tra il 5 e il 10% del patrimonio detenuto all'estero. Il costo ovviamente può aumentare notevolmente in casi di evasione piuttosto grave. La ringrazio dottor Cassa per il suo invito qui nel suo studio Alana. Ringrazio anche voi per averci seguito. Ricordate che per ulteriori informazioni potete trovarci nell'internet, scriverci un'e-mail oppure seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Twitter. Infine non perdetevi la nostra prossima edizione con la questione giuridica del mese. tratteremo gli incidenti in bicicletta su strade trasfrontaliere. Arrivederci.